Francamente facciamo fatica a capire, io ho scritto una lettera all'assessore, perché tutti quelli che stanno qua, che ruotano attorno alla piazza di Montecchio, che sono circa 50.000 abitanti, oltre 80 anni, gente che ha anche per fortuna oltre 100 anni, che deve andare a fare il vaccino a pezzo. Ci sembra un'assurdità, abbiamo chiesto di farli o all'interno della Casa della Salute, che è in via Pio la Torre, o il pallavitri dove abbiamo fatto i tamponi, che ha funzionato alla perfezione, anzi tutti hanno ringraziato. Oppure, come ho detto ieri, in una nota è ancora meglio, spero che oggi trovano l'accordo la regione con i medici di base, negli ambulatori, i medici di medicina generale, il medico di famiglia, sa vite e miracoli di ognuno di noi, e quindi meglio di quello e si evitano disagi, soprattutto a persone che hanno 80, 90, 100 anni, che hanno necessità di fare rapidamente questi vaccini. Io spero per la verità che l'Europa e anche l'Italia possa valersi anche dei vaccini russi, dei vaccini cinesi oltre che quelli americani, perché prima vacciniamo tutti a tappeto e meglio è, non possiamo continuare a tentennare impiccandosi ad un albero che è solo quello appunto del vaccino americano. La pandemia sta ancora agendo molto negativamente, qui fortunatamente la situazione ancora è molto sotto controllo, c'è stato un calo abbastanza importante, quindi invito anche le persone a mantenere le mascherine, a stare nelle distanze giuste, a far l'igienizzazione e perché insomma si possa arrivare rapidamente a questi vaccini e magari prima dell'estate aver fatto tutti i vaccini. Sono arrivati un po' di reclami da parte dei cittadini che devono recarsi a Pesaro o addirittura a Urbino, quindi comunque un po' lontano. Quelli più diciamo in buone condizioni hanno già preso appuntamenti, però la percentuale è molto bassa, la gente è diciamo molto dispiaciuta di questo atteggiamento. Se si pensa che sono oltre 60 comuni e devono andare tutti a Urbino a Fano a Peso ci sembra un'assurdità, o negli ambulatori oppure in centri più raggruppati come l'altra volta, evitando ogni disagio.